Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Siegfriedo Millequadri. In questo video analizzerò un'opera del pittore simbolista Arnold Böcklin. Il titolo del dipinto è L'Isola dei Morti, un'opera che ha esercitato un grande fascino nel corso della storia, che ha attirato su di sé le attenzioni di personalità della politica e della cultura. Qual è la forza misteriosa di questo quadro? È una delle domande a cui cercherò di dare una risposta in questo video. Buona visione. Per comprendere l'opera di Böcklin, che qui vediamo in un autoritratto del 1873, occorre calarci nel clima culturale dell'epoca e in particolare nel significato di simbolismo. Una semplice ma chiara definizione che tengo sempre presente quando mi approccio davanti a un dipinto di questa corrente artistica è quella che viene data nel catalogo della mostra Il simbolismo in Italia, che si tenne a Palazzo Zabarella, a Padova, tra il 2011 e il 2012. Cito il testo del catalogo. La forza del simbolismo è stata quella di rappresentare in pittura, penetrando anche nel territorio dell'inconscio, i grandi valori universali dell'umanità, il senso della vita e della morte, la fantasia, il sogno, il mito, l'enigma, il mistero, in un momento in cui l'avanzare del progresso scientifico e tecnologico appariva minacciarli. Cosa ci dice questa definizione? Intanto che il simbolismo rappresenta in pittura i valori universali che hanno accompagnato l'umanità dall'alba dei tempi, valori quali il senso stesso della vita e della morte, e poi ancora il mito, il sogno, il mistero, l'enigma, la fantasia. Ma anche, aspetto molto importante, che la preferenza data a questi temi dai pittori simbolisti avviene in un momento storico nel quale il progresso tecnologico li stava oscurando, mettendoli da parte, relegandoli in un angolo. Tenendo a mente questa definizione, proviamo ad osservare l'Isola dei Morti. Questa è la prima versione delle cinque realizzate. Effettivamente, anche ad un primo sguardo, percepiamo una forza sottile ma irresistibile che ci calamita dentro il quadro. La composizione è semplice. In mezzo alle acque ferme si erge una piccola isola rocciosa a forma di ferro di cavallo, nella quale sono scavate delle camere sepolcrali, con dei cipressi scuri posti al centro. Una piccola imbarcazione sta prodando sull'isola. Il clima è tetro, i colori del cielo e dell'acqua sono scuri. Comprendiamo subito che il dipinto ha a che fare con il trapasso tra la vita e la morte, e che è pervaso da un senso di mistero. La rappresentazione è reale. Riconosciamo l'isola, gli alberi, la barca, ma l'atmosfera è onirica. L'isola sembra essere la rappresentazione di un sogno, di un luogo sconosciuto, ma che in qualche modo riconosciamo, forse a livello inconscio, e che sembra custodire, nell'oscura e impenetrabile selva di cipressi, la risposta a domande ataviche. Per questo l'isola dei morti è un emblema del simbolismo, perché messa da parte la fiducia totale nel progresso e nella tecnologia, che caratterizzava l'epoca, l'opera si focalizza sul mistero stesso dell'esistenza, e sulle domande cruciali che l'uomo da sempre si è posto. Le versioni dell'opera, come detto, sono cinque, delle quali una, la quarta, è andata perduta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Nel video vi mostrerò tutte le versioni, mettendo in evidenza le differenze anche molto significative che corrono tra i diversi dipinti. Ma è soprattutto dalla prima versione che dobbiamo partire, perché intorno alla realizzazione di questo primo quadro ci sono molte cose da dire. Nel 1880 Böcklin, che qui vediamo in un altro autoritratto più tardo, viveva a Firenze. Il pittore svizzero soggiornò a lungo in Italia, prima a Firenze e poi a Fiesole, ed apparteneva quindi ai cosiddetti pittori definiti tedeschi romani, che avevano trovato in Italia la terra della nostalgia, della visione romantica a cui aspiravano. Il pittore stava lavorando ad un dipinto, a quello che diventerà la prima versione dell'isola. Era un quadro destinato ad Alexander Günther. Proprio mentre questo quadro era sul cavalletto ed in via di ultimazione, Böcklin ricevette la visita di Mary Berna, in seconde nozze futura contessa di Oriola, che rimase subito colpita da questa tela e ne commissionò una copia al maestro. La donna chiese al pittore un quadro che potesse far sognare e fece anche la richiesta, forse in ricordo del primo marito scomparso anni prima, di apporre alcune modifiche. Böcklin si mise al lavoro e realizzò in un mese una seconda versione dell'opera, inserendo sulla piccola barca a prua un feretro ed una figura bianca in piedi, una sorta di fantasma o di anima che doveva alludere al marito scomparso di Mary Berna. A quel punto il pittore, rimasto folgorato dall'effetto ottenuto, decise di modificare la barca anche nella versione originale. Il pittore, a proposito dell'effetto di grande suggestione, scrisse come il quadro fosse in grado di infondere una tale sensazione di silenzio da far sobbalzare al solo sentire bussare la porta. Böcklin era quindi consapevole del potere ipnotico del dipinto e decise infine di tenere per sé la prima versione. Ora che abbiamo memorizzato l'esito finale del dipinto, proviamo ad immaginare come si presentasse l'opera prima che Böcklin vi apponesse la figura bianca. Nell'immagine ho provato a fare questo esperimento oscurando la figura e la bara. Effettivamente il quadro perde molta della sua forza e del suo mistero. Qui invece torniamo a vedere la prima versione, quella definitiva. La figura bianca, che viene interpretata dagli studiosi come l'anima che assiste il corpo nel feretro nella fase del trapasso, spicca esile ma incredibilmente potente. L'isola dei morti, senza la sua presenza, avrebbe avuto un effetto diverso e tutte le successive versioni, fino alla quinta, seguiranno questo modello. Qualche informazione sulla prima versione del dipinto. L'opera è datata a 1880 ed è conservata al Kunstmuseum di Basilea, che conserva una importante raccolta del pittore svizzero. Il dipinto misura centimetri 110 x 156. Il titolo è l'isola dei morti, anche se inizialmente era titolato semplicemente un luogo tranquillo. Proviamo ad osservare il quadro. La superficie dell'acqua è totalmente piatta, pare una lastra. Intravediamo, appena accennato, il rifrangersi delle acque nella parte sinistra. Anche il riflesso dell'isola sull'acqua è minimizzato. Ci troviamo di fronte ad uno specchio d'acqua quasi irreale, che pare violare le leggi di natura. Il cielo è molto scuro, leggermente più chiaro a sinistra. Sembra un cielo notturno, anche se notiamo che la figura bianca sulla barca proietta un'ombra sulla bara. La fonte di luce è quindi alle nostre spalle, a sinistra. Alcuni studiosi hanno interpretato la luce come quella del crepuscolo. Aggiungo, un crepuscolo simbolico della vita. In questa dimensione tetra, le rocce di uno splendente colore marrone sono ben illuminate, così come una struttura bianca a sinistra, che potrebbe essere una sorta di cappella funeraria o tempietto, di cui scorgiamo la falda del tetto. Tra tutte le versioni del dipinto, questa è quella dove l'approdo è più stretto. La forma d'anfiteatro dell'isola è molto chiusa e nell'ombra non riusciamo a vedere dove la barca potrà effettivamente attraccare. I cipressi, ne vediamo una dozzina, sono dipinti di un verde molto scuro e sono compattati al centro. L'isola, caratterizzata da rocce scoscese e di rupi, è coperta anche da altri arbusti e cespugli. Possiamo distinguere anche dei fiori selvatici. Il rematore della barca, che è stato interpretato da alcuni studiosi come Caronte, il traghettatore delle anime di dantesca memoria, è seduto a poppa, ha i capelli lunghi e potrebbe anche rappresentare una donna, forse alludendo alla stessa Mari Berna che accompagna il feretro e l'anima del marito. La seconda versione, che vediamo nell'immagine, è conservata al Met di New York. È un olio su tavola e misura 74 x 122 cm circa, ed è quindi di dimensioni leggermente inferiori rispetto alla prima, ma è molto simile. Vedremo invece come le tre successive versioni differiscano in maniera significativa da queste prime due. Ora che abbiamo avuto modo di familiarizzare con la prima versione, osserviamo le differenze in questa seconda. Il primo aspetto che salta all'occhio è il fatto che l'atmosfera del dipinto è molto più cupa. Tra il cielo, dipinto di un blu molto scuro ma acceso, e il mare, non distinguiamo quasi la linea dell'orizzonte. Possiamo invece notare come le rocce si specchino sull'acqua. Böcklin definisce l'effetto tramite segmenti di colore quasi impressionistici. Anche in questa seconda versione, il mare è calmo, ma osserviamo qualche increspatura e la stessa barca lascia alle spalle una leggera scia. L'isola è più aperta e distinguiamo un muro su cui è posta una statua di un animale e forse anche alcuni gradini che portano verso la selva di Cipressi. Gli alberi sono più compatti al centro dell'isola. Il feretro sulla barca, a differenza della precedente versione, è ricoperto di corone ed il rematore non sembra più seduto ma inginocchiato. La terza versione, che vediamo nell'immagine, è datata a 1883, è un olio su tavola e misura 80x150 cm. L'opera è conservata a Berlino alla Alte National Gallery. Dopo esserci soffermati sulle prime due, ci accorgiamo che la terza versione, che sarà modello anche per la quarta e la quinta, presenta dei cambiamenti significativi. Intanto lo sviluppo è più orizzontale. La larghezza dell'opera è simile alla prima, un metro e mezzo, ma l'altezza è decisamente inferiore. Le differenze più evidenti sono due. La prima è relativa alle condizioni di luce. Qui ci troviamo alla luce del giorno e se notiamo tra le nuvole possiamo distinguere a tratti il cielo azzurro. La seconda differenza, marcata, si riferisce all'isola. Qui osserviamo delle rocce marcatamente verticali e lisce, che mi fanno pensare ai faraglioni di Capri. Spesso gli studiosi si sono chiesti a quale luogo reale Böcklin si sia ispirato. Riprenderò più avanti nel video l'argomento riportando le principali ipotesi. Sull'isola è sparita la presunta cappella nella parte sinistra e vediamo solo dei loculi. L'accenno a qualche struttura architettonica appare invece nella parte destra. Notiamo anche la firma AB sull'apertura nella parete verso destra della roccia. Del tutto nuovo è l'approdo. Qui notiamo un muretto e poi uno scivolo. I cipressi sono più numerosi rispetto alle versioni precedenti e formano un vero e proprio boschetto impenetrabile. Notiamo poi che le punte degli alberi sono spostate verso destra. Anche alcune pareti rocciose tendono stranamente verso destra. In questa terza versione, così come nella seconda, non distinguiamo quasi la linea dell'orizzonte. L'isola si specchia sulle acque e qui la tecnica di Böcklin non ha nulla di impressionistico, come nella seconda versione. Il rematore ha una posizione più plastica e slanciata. Notiamo come la figura bianca si specchi in maniera molto più netta sull'acqua. Di questa terza versione e di un suo purtroppo celebre proprietario parlerò di nuovo più avanti nel video. La quarta versione è andata perduta nel corso del secondo conflitto mondiale. Dalla foto in bianco e nero che ci è pervenuta, questa versione sembra abbastanza simile alla terza e sembra fare da ponte verso la quinta e ultima. Siamo giunti alla quinta ed ultima versione. Il dipinto è un olio su tavola e misura centimetri 80 x 150. L'opera è conservata al Museo di Belle Arti di Lipsia. Ormai l'immagine dell'opera ci è così familiare che cogliamo subito le differenze, non da poco con le versioni precedenti. Rispetto alla terza, qui il pittore sembra almeno in parte tornare indietro. L'atmosfera è di nuovo tetra e sembra essere imminente un temporale. I profili delle rocce sono più smussati rispetto alla terza versione e le rocce alternano zone grigie e marroni. Nella parte sinistra notiamo degli scogli e qualche piccolo spruzzo di schiuma. La proda all'isola è stato chiuso dall'uomo attraverso un muro di massi posti ai lati di due colonne, sulla cui sommità si trovano due statue di animali, forse leoni. L'impatto complessivo del quadro è molto minaccioso. I contrasti luministici sono più vari, così come la tavolozza cromatica. Mi sento di dire che questa versione sia più debole delle precedenti, perché sono accentuati gli aspetti atmosferici. Siamo di fronte a un dipinto che ci mostra un paesaggio tempestoso più verosimile. Avvertiamo i segnali della natura che ci sono più familiari, il vento, le nubi, il rinfrangersi delle acque. Viene meno quel silenzio assoluto, irreale e straniante, che caratterizza le altre versioni. Qui ci stiamo allontanando da una visione onirica e misteriosa che rappresenta il fascino supremo soprattutto della prima e della terza versione. Gli studiosi si sono chiesti in motivo della presenza costante del tema della morte nell'opera di Böcklin, che qui vediamo in un potente autoritratto del 1872. È possibile che le drammatiche vicende personali del pittore lo abbiano spinto a tornare spesso a riflettere sul tema. L'artista ebbe dodici figli, ma ben sei morirono entro il primo anno di età. Böcklin qui si rappresenta con gli strumenti di lavoro in mano, la tavolozza ed i pennelli. Sta guardando lo specchio per ritrarsi ed improvvisa appare la morte che ha le vesti di uno scheletro ghignante che suona un violino. Lo strumento, come è stato osservato, ha una sola corda, le altre tre sono state recise. La morte ha quindi nelle mani le sorti di ciascuno di noi e può tagliare l'ultima corda. Proprio nell'atto creativo di immortalare, di rendere eterna la propria figura sulla tela, Böcklin viene distratto dal suono e dalla voce della morte. Nel contesto delle tragiche vicende personali del pittore, l'Isola dei Morti può essere interpretata come una proiezione su tela delle sue tensioni interiori. A questo proposito, Sigmund Freud, che vediamo nell'immagine, analizzò l'Isola dei Morti interpretandola come una sorta di materializzazione delle pulsioni inconsce di Böcklin, come se il pittore avesse dato forma sensibile ai propri sogni. Scrive Freud, L'artista sa trovare la strada di ritorno dal mondo della fantasia alla realtà. Le sue creazioni, le opere d'arte, sono soddisfazioni fantastiche di desideri inconsci come i sogni. Ma non fu solo Freud ad interessarsi al dipinto, anzi, la schiera di ammiratori è vastissima. Gabriele D'Annunzio venne folgorato dal quadro e pare che ne avesse una riproduzione. Nel giardino del Vittoriale, la celebre residenza sul lago di Garda, che vediamo nella foto, D'Annunzio fece piantumare anche alcuni cipressi per ricreare l'atmosfera del dipinto. Tra gli ammiratori dell'opera si ricordano personalità politiche come gli Enin e della cultura, come il musicista Rachmaninov che compose la sua opera 29 intitolandola proprio L'Isola dei Morti. Un personaggio ossessionato dall'isola fu Hitler. Il dittatore tedesco, che era un pittore mancato, ricordiamo come in gioventù visse in totale povertà a Vienna realizzando acquerelli per turisti, riuscì ad acquistare la terza versione. Una foto storica, che vediamo, ci mostra un incontro tra Hitler, il ministro degli esteri sovietico Molotov, e il ministro degli esteri tedesco Von Ribbentrop. Furono questi gli artefici del patto di non-aggressione tra i due paesi. Alle loro spalle intravediamo la terza versione dell'Isola dei Morti. Il quadro venne trovato alla fine della Seconda Guerra Mondiale dalle truppe sovietiche nel bunker di Hitler, sottratto come bottino di guerra e portato in Unione Sovietica. L'opera venne poi rivenduta nel 1979 ed ora è conservata a Berlino. L'Isola dei Morti ha influenzato moltissimi pittori che ne hanno realizzato copie e rielaborazioni. Ve ne mostro solo alcune tra le più rappresentative. La prima che ho scelto è quella realizzata intorno al 1905 da Karl Wilhelm Diefenbach, pittore molto particolare di ispirazione simbolista, che visse parte della sua vita a Capri. In questo omaggio all'isola di Böcklin, Diefenbach inserisce elementi archeologici ispirati da un viaggio che fece in Egitto. Anche il genio del surrealismo, Salvador Dalì, rimase colpito dall'opera di Böcklin e riprese più volte nella sua carriera alcuni spunti da essa forniti, come in questo dipinto intitolato La vera immagine dell'Isola dei Morti di Arnold Böcklin all'ora dell'Angelus. Questo dipinto è datato 1932. La terza opera che vi presento è di un altro interessante pittore, anch'esso svizzero, Hans-Rudy Giger. Questo omaggio a Böcklin risale al 1977 e ci mostra l'originalissimo stile del pittore, che si muove tra simbolismo e surrealismo, spostando l'atmosfera onirica verso quella della fantascienza. Un dipinto che trovo interessante mostrarvi è di Ferdinand Keller e si intitola La tomba di Böcklin. L'opera è datata 1901-1902. Keller omaggia il suo maestro e realizza un dipinto che ci presenta un'atmosfera molto simile a quella dipinta da Böcklin. E se vogliamo correre con la fantasia, possiamo immaginare che qui sia rappresentata una prospettiva diversa, un piccolo approdo posto sul lato opposto dell'isola. Gli studiosi si sono sforzati di ritrovare il luogo preciso che ha ispirato l'Isola dei Morti. A mio parere, Böcklin non ebbe un'unica fonte di ispirazione, ma rielaborò diversi elementi presi dalla realtà. Ho pensato di mostrarvi una piccola rassegna. Un luogo che certamente influenzò il pittore è il cimitero degli inglesi che vediamo nella foto. Il cimitero si trova in piazza Donatello a Firenze. Böcklin aveva lo studio non lontano da questo luogo che quindi era parte del suo immaginario visivo. Qui inoltre fu sepolta anche una delle sue figlie, Beatrice. Come vediamo nella foto, il cimitero è un ambiente raccolto che si stacca dalla città formando quasi un isolotto a sé. I faraglioni di Capri scavati dalle acque carsiche ricordano la conformazione delle rocce nel dipinto. In questa fotografia troviamo delle affinità soprattutto con la terza versione dell'Isola dei Morti. Altri studiosi ritengono che sia stata invece l'isola greca di Ponticonissi ad ispirare Böcklin. Nell'isola si trova una cappella posta tra un bosco di cipressi. Un altro luogo che ci rimanda alla fisionomia dell'isola di Böcklin è l'isola di San Giorgio in Montenegro dove si trova un monastero ed un cimitero. Nel 1888 Böcklin forse per compensare la realizzazione delle cinque versioni dell'Isola dei Morti realizzò il dipinto che vedete nell'immagine e che si intitola L'Isola dei Vivi. In una primavera della vita alcune figure mitologiche si muovono in acqua in primo piano scortate da dei cigni bianchi. Sull'isola lussureggiante sono in corso gioiosi e spenserati festeggiamenti. Abbiamo dunque fatto questo lungo viaggio alla scoperta dell'Isola dei Morti un dipinto che non cesserà mai di esercitare il suo fascino anche disturbante. Böcklin entra in un territorio di confine e partendo da elementi naturali come l'isola le rocce i cipressi la barca da forma consistenza alle visioni dell'inconscio. Ci siamo trovati di fronte ad un paesaggio sconosciuto che non abbiamo mai visto nella realtà ma che sentiamo in qualche modo familiare e che esercita uno strano sentimento di nostalgia timore e attrazione. Fatemi sapere nei commenti se siete attratti o respinti da questo quadro quali sentimenti suscita in voi fatemi sapere anche quale tra le cinque versioni è la vostra preferita io sono indeciso tra la prima e la terza versione se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale vi aspetto alla prossima